l'anno scorso c'è andato c'è andato c'è andato c'è andato e barcelona l'ha rubato e quest'anno e quest'anno c'è chi ci va e vinceva l'ora ci va ganascioni ma me non aveva nessuno dal capo o chi è ganascioni ganascioni acelotto e ci che non ti garbava più corcezzi o che ci va te quella roma vieni qua dove la pelliccia o chi io sento c'è andato 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 ma sentite ragazzi ma c'è andato c'è il più grande giocatore del mondo si è che non mordi nulla questo discorso c'è un grande giocatore del mondo che l'anno scorso si ha l'ultimo un indovino a quella volta erano un 10 era il suo mestiere era il manifo un colpe coltune perchè il cercio c'ho un mezzo sono d'accordo un vecchio per la scuola i duritori con le scuole non le normalità io per rimanere sempre manchester maestro c'ha l'epoca io vi di più tempo ci può essere l'almarrivo di intercesto si il cerci l'ha subito anche te perchè praticamente ha eliminato la juventus il cerci di gran lunga comunque io non ci voglio rientrare però il cerci lo trovo sempre in cima perchè è una squadra quadrata e nessuno cerca tutti di passi ma sei ma sei ma sei ma sei ma